Ed ecco Niccolò, adesso sei in grado, eri molto piccolo, ero molto piccolo, ti sei fatto molto grande, come mai? Con fortuna, è passato molto tempo, dall'ultima serie ormai sei anni, perciò sì, siamo cresciuti tutti. Cioè chi è vecchiato e chi è cresciuto. Vieni qui, vieni qui. E che cosa stai facendo adesso ultimamente? Adesso mi faccio un bel red carpet in questo momento, ma ultimamente dicevo. Parlo come fiume? Beh, sto partecipando ad alcuni eventi, faccio un po' di teatro, doppiaggio, mi sto dando da fare un po' in altri ambiti, sempre iniziatore dello spettacolo. Per quanto riguarda la televisione c'è un po' da ascoltare, anche perché essendo appunto stato incastrato nel mio personaggio per diversi anni, devo aspettare che... Una barba un po' lunga, un fisico diverso, no? In effetti, sei molto cambiata, non ti avevo rivolto. Questa è già una soddisfazione per me. Beh, anche perché poi quando uno si fossilizza, diciamo, sul personaggio, poi... Esatto. Pensa che te lo dico... La famosa etichetta. Bravo. Ma io la toglierò al posto. Bravo, bravo. In bocca al lupo. Grazie. Se dice grazie, eh. Grazie. Non deve crepare al lupo. Bravo. E allora in bocca al lupo, ripeto, e speriamo molto successo. Ciao. Ciao. Un saluto a tutti. Ciao a tutti voi. Bene, aspetta. Dal prote Fernando e da... Da Nicolo Centio. Ciao. Ciao a tutti voi. Ciao. Ciao.